La partita è tutta e due molto complicate. La prima abbiamo giocato molto bene, la seconda siamo andate lì, abbiamo fatto comunque sia la partita, poi nel finale purtroppo un episodio ci ha condannato, però comunque sono e siamo molto soddisfatti. L'attivo è chiaramente far bene, far molto bene il mondiale, andare più avanti possibile anche perché sarà sicuramente una vetrina importante. La regionale, chiaramente scambiandoci due parole, si è capito subito che anche loro ci tengono molto, così come ci teniamo molto noi, già comunque sia si respira il clima partita. Questa è una settimana che sarà molto molto importante per andare a preparare appunto questa partita che sarà fondamentale per noi e chiaramente speriamo di dare il massimo e di portare magari a casa qualche punto. Sicuramente senza un bel dubbio il centrocampo è il loro reparto migliore, hanno dei giocatori ottimi per la categoria, ma non c'è soltanto quello perché anche in attacco e negli altri reparti hanno buoni giocatori e non a caso sono in una buona posizione di classifica. Avrete un grosso seguito di tifosi e più di 2000 scolari che vi seguiranno? Ho letto, ho letto già anche quando ero in nazionale, questo fa non piacere, fa di più di piacere perché comunque sia loro sono il nostro dodicesimo uomo, sono per noi importantissimi siamo sicuri che ci daranno una grande mano come sempre. Uno si trova bene comunque con i compagni e col modulo, poi l'importante è giocare, quello sicuramente, però sì ultimamente sta andando molto bene, mi sono calato con più convinzione in questa realtà e spero soprattutto di fare meglio, meglio ancora di come sto facendo. Il mister è stato, come già avevo detto nelle interviste precedenti, fondamentale per me e credo che lo sarà anche nel proseguito della stagione. Grazie a tutti.